Taglio del nastro sotto la pioggia patrica per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo. Tante le persone che nonostante il maltempo hanno partecipato all'open day organizzato dall'amministrazione comunale che per questa giornata ha messo in campo una serie di attività sportive per bambini ed adulti svolte all'interno dei campi appena ultimati. L'esibizione della banda Licignorefice e la benedizione di padre Roberto hanno caratterizzato la cerimonia d'apertura. A seguire il sindaco Lucio Fiordalisio si è rivolta alla cittadinanza Chi governa un territorio deve guardare alle nuove generazioni, ha dichiarato. Oggi per noi è stata una giornata impegnativa e grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'inaugurazione dell'impianto sportivo. A mio avviso, sottolinea il primo cittadino, le opere realizzate dentro un territorio sono figlie di tutti. Non sono di proprietà del sindaco, dell'amministrazione o di un singolo cittadino. È l'intera comunità che deve adottare e custodire quello che nasce dal nuovo. Il nostro paese, così meraviglioso ma allo stesso tempo molto articolato e disomogeneo, ha bisogno di spazi e luoghi dove ritrovarsi. Questo è quello che io e la mia amministrazione abbiamo cercato di fare. Questa è la nostra visione. Il sindaco spera che rimanga qualcosa di buono del lavoro e dei sacrifici fatti.